qui siamo su dream league social che sono esistiti molti dream league social è esistito dream league social 2013 2014 2015 2016 e 2017 qui stiamo per giocare a 2017 è un gioco che c'è qua da quest'anno adesso vi presento le squad allora qui abbiamo vera totti che lo conoscete già la gioca nella roma classes olive oli o la vite o la chet e manoli quelli panchinali sono wilson kilowatt quelli che l'uola ma tweet molto molto freman fudman sono di più quelli quelli che giochi quelli dell'inghilterra ci sono di più quindi adesso cominciamo la nostra prima partita che la partita 12 che cominciamo la partita oggi rosso si blu blu di blu cominciamo la partita allora ho deciso di fare un cucco questo video su dream league social 2007 perché ho pensato al calcio il calcio è uno sport molto bello quindi vi chiedo di salvare dream league social che lo trovate su play store installatelo grazie ragazzi ma comunque qui siamo più di qui siamo la juventus perché io tipo la juventus quindi cominciamo non cominciamo noi a battere ok abbiamo dopperti abbiamo dopperti continuo dopperti andiamo su dopperti sarris un difensore adesso vi viene poi quello quello ma come fanno faccio le sfumato senza far falli vera conto devo passarlo a totti però ma perché questi posso abbiamo dato un pallone a totti vera conto di vera conto di vera conto di vera conto di netto e come succede questo voglio far quello in questa punizione raga con questa volta voglio farlo perché 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 hai sbagliata ma che cazzo tirato con il portiere io ho sbagliato pure il tigre ma che cazzo tirato ma che cazzo tirato il portiere oh vai esguivo vai esguivo vai esguivo vai esguivo ecco finalmente ti adesso tirato fuori normalmente dai perché non attacchi così no ma perché devo svegliarlo sempre io ecco dai vai a un gol un gol vai a un gol e questi questi mi prendono il pallone perché sono troppo sono troppo sono troppo sono troppo non so dai dai vera dai vera dai prendi un gol un gol e fuori perché fuori perché fuori perché fuori perché non loiusi a guardiamo ti here è un po per chi con chiettos che vuoi un gol di vé per che punti di quindi grazie e gol grande vera, grande vera, grande gol vera, vai che vera, grande, grande vera perchè abbiamo, fine primo tempo, 45, voglio cambiare qualche squadrina, allora Klaassen lo cambia al posto di Wilson Emonia lasciamo in porta, Olivier, molto, al posto di Molta Vera lasciamo in attacco, Micicchia non fa niente Corro, lo sentiamo al posto di, no lasciamolo qua, così abbiamo fatto i miglioramenti Cominciano a battere, cominciano a battere Adesso cominciano ad arrabbiarsi, cominciano ad arrabbiarsi questi qua E volevi, nessuno mi può battere E dai Totti, Totti, Totti Eeeh, perchè Totti me l'hai sbagliata, perchè Totti me l'hai sbagliata, perchè Totti, Totti, perchè Francesco, perchè Francesco me l'ha sbagliata, col sinistro, col boccino Perchè me l'hai sbagliata di brutto Dai Buzino, testa Ecco Dai Totti, 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 per favore Totti, per favore Totti, per favore Totti, per favore Totti E' un po' di suonido Adesso è arrivato la polla Che gol, ragazzi, che gol Totti che... attraverso la porta Ragazzi, che gol Che gol, questa la sciarmi di brutto che colla così poi il piatto che poi come si è messo bella con un collo di con un collo enorme si è messo con un collo enorme preso di pat e ha tirato un collo di quelli che è arrivato lui è passato e ha tirato tutti i gol ok ragazzi siamo a 2 0 per il gol di vela e di totti ragazzi ce la posso fare siamo contro totti perché la passi grande totti continua totti e grande totti continua totti continuo totti per chi non era totti scusatemi perché non pensavo non pensavo che era totti all'evento dove ho fatto e li ho messo e li ho messo anche l'altro gli altri per chi dire sì c'è qualcuno da difendere per difendere la porta e volevi ecco dai vera dai vera grande vera grande vera grande vera grande vera il numero 2 conquista la porta vera 3 0 e abbiamo fatti fritti ne abbiamo fatti fritti 70 70 70 70 70 perchè dai Wilson, dai Wilson, e ti ho messo l'attacco primamente Wilson, perché ti ho messo l'attacco e tu non mi vai un gol la partita è quasi finita, non vanno venuti due minuti e abbiamo finito la partita per chi? per chi? vera perché vera perché vera perché vera ragazzi per questo video possiamo lasciate un like se vedete il mio canale e poi ci possiamo rivedere nel prossimo video bella ragazzi